L'aeroporto di Firenze deve essere chiuso perché non è sicuro, non avendo le autorizzazioni necessarie e la conformità urbanistica che è obbligatoria. La richiesta dell'Associazione VAS, Vita Ambiente e Salute di Prato, arriva direttamente sul tavolo del Ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, del Commissario EI Trasporti e del Direttore Esecutivo EASA, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea. Sono accuse pesanti ma supportate da una valanga di documenti di richieste e accesso agli atti a cui Enac non ha mai risposto mostrando l'autorizzazione ambientale in base alla quale il Vespucci opera e l'Airbus A319 vola da e per Firenze. Enac non ha risposto ai comitati ma non ha risposto nemmeno al Direttore Generale della Divisione sul Trasporto Aereo del Ministero dei Trasporti, Renato Poletti, che dopo le richieste formulate anche dal prefetto di Firenze per ben due volte sollecita a provvedere senza alcun ulteriore indugio a relazionare compiutamente in merito, stante la gravità di quanto segnalato. Questo a novembre e dieci giorni fa. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta. Ma se le autorizzazioni ci sono, come sostiene Enac, non è più semplice e trasparente mostrarle anziché trincerarsi dietro uno strano silenzio che getta una pesante ombra sul Vespucci? Facciamo un esempio immobiliare per far meglio capire alla gente quello che sembra sia successo, afferma l'Associazione VAS. Potremmo dire che forse l'attuale aeroporto è come un edificio che ha avuto la licenza a costruire ma non ha l'abitabilità, quindi i proprietari non lo possono vendere e utilizzare. Scendiamo più nel tecnico. Toscana Aeroporti, all'epoca ADF e Enac, non hanno temperato alle prescrizioni del decreto di via 676 del 2003 in relazione al Masterplan 2001-2010, che prevedeva tra le altre cose l'allungamento dell'attuale pista con interramento dell'autostrada, realizzazione della pista di rullaggio, delocalizzazione delle abitazioni più vicine alla pista e monitoraggio acustico costante. Decreto di via contro cui ADF ha fatto parziale ricorso al Presidente della Repubblica che gli ha dato torto. Le prescrizioni comunque sono rimaste sulla carta, nonostante la loro applicazione fosse necessaria alla sicurezza dello scalo, all'ottenimento della conformità urbanistica e alla realizzazione del nuovo progetto di ampliamento del Vespucci, quello con pista parallela all'autostrada, affossato da ben tre sentenze dei tribunali amministrativi. Enac ha ribadito più volte che non c'è stata ottemperanza perché quel masterplan e quella procedura di via sono superati dal nuovo progetto, ma oltre al fatto che tale progetto è stato fatto a pezzi dai tribunali, non ha mai specificato e mostrato su che base autorizzative opera l'attuale impianto.